Champions Cup amatori, girone 2, terza giornata, Borgo Rosso contro SVZ Team Marco Lungo, ancora tentativo in girata da parte di Corda, ancora palla che va fuori Palla in fascia, cercare Moro, Moro, prova a trovare lo spazio, lo trova, palla di nuovo in fascia a Lucci Lucci verso Isola, Isola si accentra, prova la conclusione, vantaggio SVZ, ancora il numero 18, Luca Isola Azione, Corda, dai e vai, grande azione, William Corda, prova la conclusione, palo, botta da parte di Isola Raddoppio, raddoppio dell'SVZ Attia, Attia torna indietro, per nessuno, e qua c'è un altro tentativo di ripartenza dell'SVZ Isola verso Moro, Moro prova a puntare, Moro punta, calcia, arriva anche il terzo gol per l'SVZ Assegno, Davide, Fabio, Moro Pirroni parte in avanzata, grande lavoro da parte del 6, che scarica verso Sidi Sidi prova la conclusione, palo Pietro verso Ariu Ariu vede l'apertura con Meloni Meloni verso Ariu, che prova la conclusione, anche lui, palla che forse tocca la traversa Attenzione, cross, tentativo di cross qua per l'SVZ, palla verso Isola Forse Meloni Moro di testa Termina la prima frazione di gioco, Borgo Rosso 0, SVZ 4 Moro va in avanti a cercare Pirroni, che l'aggancia, Pirroni Maggi è in uscita salva De Marco, lunga, a cercare Serra, ci va in marcatura Serra di testa, Angius cosa ha preso? Con Onnis, Moro verso Pirroni Pirroni E stavolta riesce a segnare, e sono 5 per l'SVZ Murgia C'è la fa Lucci Prendo controllo verso Isola, che è ancora l'occasione per calciare E arriva la tripletta Per Luca Isola, super gol, è 0 a 6 Imposta, scarica Verso Meloni Palla al centro, e arriva il settimo gol Probabilmente ha segnato ancora il numero 19 E Moro, da parte dell'SVZ La palla va a un Pirroni che è solissimo Pirroni col pallonetto Ancora in gol Federico Pirroni 0 a 8 P Borgorosso 0 SWZ Team 8 Biancorossi ancora una volta inarrestabili Garri 25 23 26 24 29